Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Cucuovello, ci sono qui ragazzi a portarvi un video veramente epico ragazzi Perché epico? Perché sarà un pack opening incredibile ragazzi Perché vi spiego, praticamente ho 200 chiavi e 2500 code points Che mi sono stati regalati praticamente da un mio sponsor storico che ho da anni Ovvero Game Sardinia E che tra l'altro, questo per voi, mi hanno dato allora questi 20 euro di PSN card per fare il pack opening Più altre due PSN card da 20 euro che praticamente userò per fare un contest per voi Quindi se volete partecipare trovate nella pagina il contest ragazzi Ed è una cosa veramente facilissima, c'è un contest di quelli dove bisogna mettere solo like e partecipate E potrete vincere due card PSN card, cioè una perché ci saranno due vincitori e uno ce ne sarà una testa appunto di card E quindi niente, me le hanno regalate perché appunto dovevo, sapete che dovevo fare appunto quel mega pack opening E ci sono appunto offerti da regalarmele E quindi, niente ragazzi, io sono veramente carico perché questo secondo me sarà veramente un pack opening pesante Cioè 2500 code points più 202 chiavi Sono tante, sono veramente tantissime ragazzi Più che altro, ogni volta che aprirò un pacco avrò nuove chiavi Quindi automaticamente avrò sempre più cose da aprire E secondo me oggi potremmo trovare veramente di tutto ragazzi, veramente di tutto Quindi io sono pronto ragazzi, prontissimo, prontissimo a non trovare No, oggi ragazzi, oggi dobbiamo trovare per forza di tutto Quindi direi di aprire il primo pacchetto da 200 code points Primo pacchetto ragazzi, primo pacchetto Oddio, figo quel titolo Let's go, vai, subito Mi metti cacù da ghiaccio, così, subito No ma mi piace troppo questo titolo Bad boy, no ragazzi, questo è veramente un bel titolo cazzo È comune ma è veramente un bel titolo Veramente un bel titolo ragazzi Figo, figo Potrebbe essere il mio nuovo titolo, asperate un po' che me lo metto Dove diavolo è? Mercato nero, comune Sì ragazzi, sapete che me lo metto? Me lo metto ragazzi, me lo metto Nuovo titolino, sì, un nuovo biglietto da visita ragazzi Abbiamo un nuovo biglietto da visita Quindi, pronti per un nuovo pacco Per un nuovo pacco fortunato Sta merda non la voglio Bella anche quella cosa E vabbè, questo ce l'ho già tra l'altro, denti rotti Vabbè ragazzi, tanto ne abbiamo miliardi da aprire Quindi siamo pronti Tra l'altro va tutto a scatti, non so perché No, sta merda no però No, madonna Madonna allucinazione per l'XR2 è regale ragazzi Però vabbè, cinque bonus chiavi E niente Ok, ne apriamo un altro da qua ragazzi Possiamo aprire lì direttamente Sta laggando da far schifo No, vaffanculo Ma porca puttana No, ma anche Ragazzi, ma ce l'abbiamo già anche questo Sperate un po' Bruciamo duplicati Eh sì, era uno di quelli ragazzi Ce l'avevano già Puttana oh Puttana Quando mi fa trovare le cose che ho No, l'ho aperta con le chiavi Porco Chiudo, vabbè non cambiamo Ah sì Chi cazzo Cazzo sì Bello questo ragazzi Mi metti che ha meno forma arturiato Non male Non male No, aspetta Vabbè mi sta venendo il dubbio che ce l'ho già ragazzi Sapete che mi sta venendo il dubbio di avercela già Porca puttana se ce l'ho già Mi ammazzo No, non ce l'avevamo Perfetto Buono così ragazzi Buono così Buono così Ma perché lagga così tanto sto cazzo di gioco Buono così ragazzi Nuova cassa Vediamo cosa c'è qui Vediamo cosa c'è qui No raga no Niente Devo riavviare l'applicazione Devo riavviare l'applicazione Vaffanculo Ok vabbè nuova cassa Ancora sti cazzo di mirini No raga ma mi segnava il giallo E c'è una lucertola di merda ma Va bene Va bene abbiamo ancora tantissime cose ragazzi da aprire Ancora tantissime cose Speriamo che basti la registrazione della videocamera Da quanti cazzo di pacchetti da aprire No allucinazione no però eh Mamma mia stiamo già iniziando male Malissimo Cazzo Nuova cassa Un pallone Un pallone da rugby così Che cosa sono queste cose Sto prendendo con i code points Mi stanno allo schifo Dammi a me un tirapugni dai Un tirapugni non è che chiedo tanto Vampiro E mimetica infiltrazione per il KN44 Cazzo Ho visto la gialla qui eh E vai Cazzo Dopo e mimetica Dopo e mimetica di valore Per l'Aimaker Peccato che sia l'Aimaker Baffanculo Nuova cassa Nuova cassa Io ho trovo cose che ho già Ho trovo mimetica per armi che non uso Bello questo titolo Bello Questa mimetica fa schifo però Però bello Bellissimo questo titolo ragazzi Bellissimo Allora abbiamo ancora 500 code points E poi abbiamo un sacco di chiavi da usare Bellissimo quel titolo comunque Mimetica campo Qua cosa c'è di bello dai Petto Mamma mia Cioè in particolare per trovare roba di valore su questo gioco Uno ci deve spendere almeno 1000 euro Che inferno Poi mi prende per il culo Perché se voi guardate Praticamente nelle anteprime Ok abbiamo finito i code points Nelle anteprime Segna roba di valore Però poi non c'è nulla Va bene Iniziamo con le chiavi ragazzi Dai Cazzo Almeno adesso cosa di bello Me la vuoi dare Ancora questi mirini De calcomanie inutili Nuova cassa Abbiamo trovato cose belle all'inizio E poi basta Eeeh Si cazzo Si cazzo Aspetta però anche questo Mi sta salendo il dubbio Deve avercelo già eh Ne abbiamo due infatti Cazzo Affanculo Porco Cucciuta Brucia tutto Merda Brucia tutte queste cazzo di cose O poi poi prendendo le speranze Basta Non apri più queste casse rare di merda Apriamo tutte casse Adesso normali Basta Basta Mi sono rotto il cazzo Tutte casse normali Non me ne frega nulla A costo di trovare tutta merda Apriamo tutto A costo di trovare merda Non me ne frega nulla Tanto la merda la troviamo ovunque A meno qui ne apriamo più di casse Bene Dammi Cazzo di cose Let's go Vai Vai Vedete che la teoria Non guasta Non sbaglia Apriamo un sacco di cazze E vaffanculo A meno troviamo qualcosa di buono Queste immettiche però basta eh Cosa è che sta cazzo Leonardo da Vinci Lol Va bene Nuova cassa Ancora questa allucinazione Minchia Non la stavo più trovando No però Ne apro una rara Che qua stennò Ragazzi Non la finiamo più Più che altro c'è Ah Che stai minchiate Bene Ci sta Dai Dai Un po' di roba Una almeno Minchia Io voglio il tirapugni ragazzi Io voglio quel tirapugni Lo voglio Vai No ma ce l'ho già Questo ce l'ho già Perché Perché Ce l'ho già Quante ne abbiamo ancora Madonna Io ma ce l'ho già Tutte queste cose Io voglio solo un tirapugni E il coltellino Quello che gira Quello proprio Quello per giocare Col coltello Apriamo un po' di cassa normale Dai Minchia ragazzi Quante cassa stiamo aprendo oggi Vai Sì Vai così Vai Porca pittane Almeno qualcosa di valido Bruciamo 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 46 duplicati Pensate quanta roba sto trovando doppia Cazzo Ok Riprendiamo con un po' di cassa rare Vai Sono carico Voglio assolutamente un tirapugni Lo devo avere Vai Bello col corpo Superiore sta minchia Mi devi dare il tirapugni Non queste minchiate Vai Nuova cassa Vedo del giallo lì L'ho visto Più lieto carro Ne ho tipo 20 di questi biglietti carri Abbiamo un po' di cassa comuni Ragazzi Dai Dai Vedo del giallo qui Eh invece non è una minchia Arido Infiltrazione circuito Vediamo un po' di casse così Tra l'altro lagga tutto Quando ho fatto quell'aggiornamento Lagga anche il mercato nero Sto cazzo di puttanate Abbiamo una rara Mamma mia ragazzi Dammi un tirapugni Ti prego Dammi un tirapugni Sto pregando E anche lui Anche lui ha messo la cosa così Fa un culo Fa un culo Quanto ce ne rimangono? 52 Bruciamo un po' di duplicati Brucia 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 13 criptochiavi Ne rimangono 65 Ce ne apriamo una rara E poi tre normali ragazzi Tirapugni Dammi il tirapugni Vai Let's go Vai così Sì Ma io voglio il tirapugni Non l'hai ancora capito Il gioco di merda Brucia un po' di duplicati Zero Ok Rimangono 4 casse da aprire E in queste 4 casse Ci sarà una chiave inglese O un tirapugno O qualcosa di fico Vai questo titolo mi piace Uomo falena Che schifo Figo anche questo No ma che brutto L'uomo falena Ragazzi Non dormino la notte Per questa cosa Oddio Guardate che schifo Che fa Minchia uno dei titoli Più brutti Che avrei mai visto Va bene Tre casse Tre casse Che come già detto Conterranno Il tirapugni Ho la chiave inglese Ho il coltellino da manico Non proprio queste Nella prossima Sono sicuro che nella prossima Ci sarà Brucia brucia Zero duplicati A bruciare Bene Ultime due casse Allora ragazzi Ultime due casse Non le voglio le tue alacce Sì Vabbè Ma l'ho trovata Che figa Che figa Che figa questo titolo Casa degli specchi Ragazzi Oggi titoli spettacolari Oggi giornata Di titoli spettacolari Proprio Mi metti che a ghiaccio Non mi dite che l'ho trovata anche prima Perché ho la memoria un po' corta E mi sa che l'ho già trovata prima Ho trovato due ghiaccio Ho già trovato due ghiaccio Porca puttano Aspetta 11 chiavi Ok Benissimo Benissimo Abbiamo altre due casse Ragazzi Le ultime due casse Queste sono veramente le ultime due Ci vuole per forza Qualcosa di raro Bello Che fighi Perché questi titoli così fighi ragazzi Sono veramente fighi Sono contento I titoli mi piacciono Mi stanno piacendo E ora è il momento dell'ultima cassa Meno che non abbia altri duplicati Una chiave Mi da Ultima cassa Di questo mega pack opening Che sinceramente Mi ha soddisfatto Per quanto riguarda i titoli E basta Però è stato un grande pack opening Ultima cassa Dammi la chiave inglese Alcione Figa questa E poi quelli mi diranno No Non ho cose da bruciare È vero Quattro Asperate che forse No Per due Non riesco a prendere un'altra cassa Va bene raga Riguardiamo un centimino i titoli Perché alla fine Sono queste le cose belle Che abbiamo trovato oggi Dove cazzo si vede Ogni volta che dove mi dimentico Mercato nero Sette Questo l'abbiamo trovato un'altra volta Allora qua Circa abbiamo trovato questa Casa degli specchi Che è veramente Veramente bello Veramente Veramente bello Questo Dall'abisso Che è veramente bello Anche questo Questo che mi fa paura Una paura che non avete idea Ragazzi Uomo falena Il titolo più Spaventoso del gioco Guardatelo Dovete guardarlo Ragazzi Perché è troppo Cioè E poi Un sacco di titolini Comune Questo Veramente carino Gladiatore Poi questa cosa Dell'oro Questi due Tipi Che è meglio Non parlare Questo non me lo ricordavo Nemmeno E poi ce n'era un altro Che ho visto molto carino E' questo Quello Che figo anche questo ragazzi Non molti titolini carini Però questo mi piace Particolarmente Però Cazzo Anche questo E' carino Ora Valuto bene su quello da utilizzare Ragazzi facciamo una cosa Fatemi sapere nei commenti Che titolino mi devo mettere Fatemelo sapere Quello che vi piace di più E lo utilizzerò Comunque Questo pack covering E' giunto al termine ragazzi Io vi ricordo che Ho appunto facendo insieme A Game Sardino Un contest per vincere Due PSN card Da 20 euro E l'ho trovata Nella mia fanpage Per partecipare E' una cazzata Avete soltanto mettere like Alla loro pagina E niente di che E niente ragazzi Spero che partecipiate in tanti Che appunto Due vincano Cioè Non è che spero Due vinceranno per forza E niente Vi ringrazio per aver visto il video Mi ti lascerò un bel like E noi ci becchiamo Stasera O domani Non so che riuscirà questo video Comunque ci becchiamo A breve con un nuovo video Bella Ciao 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 Ciao